Sono Valli. Leggo il racconto, un sogno fatto assieme. Nierere e Lovasa sono due bambini maasai, figli che Oloitai ha avuto da due diverse mogli. Il padre, che era il medico del villaggio, è morto di cancro tre anni fa. Al suo funerale c'ero anch'io, unico bianco in mezzo a un migliaio di maasai, un prete e due chierichetti. Il prete, prima della sepoltura, mi ha chiesto di dire qualcosa. Allora spiaccicavo giusto qualche parola di Suaili e il mio inglese sarebbe risultato sciocco. Per questo ho preferito declinare l'invito. Credo che il prete l'abbia fatto perché in quel momento Nierere e Lovasa erano al mio fianco e mi tenevano per mano. E la storia che loro padre mi ha raccontato quel pomeriggio è stata la più bella che ho mai ascoltato. Una storia che io e i suoi figli stiamo continuando a scrivere assieme e parla di borse di studio, di scuole, di una vita migliore per loro e tanti altri bambini e bambine che non hanno nulla. È una storia fatta di tanti sacrifici e tante piccole vittorie. Una storia che mi ha tenuto qui e mi ha fatto capire quanto è importante non avere nulla se non una valigia piena di sogni. Un giorno apriremo quella valigia e sorrideremo delle cose buffe che ci abbiamo messo dentro. Ma per ora ci basta sapere che è lì e che è importante fare tutti assieme lo stesso sogno. Sono Fernanda e vi leggo il racconto Veronica. Veronica Lommiachi è una bambina masai del villaggio di Baracca. Il mese scorso una persona che ci segue dall'Italia si è offerta di pagare per la sua borsa di studio. Come spesso accade tra una cosa ed un'altra ne ho parlato con Luca, il nostro amico e direttore della Galagua School che per tutta risposta mi ha detto Beh, uno in più o uno in meno, intanto la porto a scuola, poi vediamo se arriva il sostegno. Sono passate le settimane e quella persona non si è fatta più sentire. Ho detto a Luca, a questo punto è meglio aspettare. Ma Veronica non ha voluto smettere di salire sul pulmino della Galagua School. Si è presentata tutte le mattine nel punto in cui si ferma il pulmino e zitta zitta è salita assieme agli altri dodici bambini masai che studiano lì. Lei lo sa che non dovrebbe salire, ma come fare? Come farglielo capire? Finalmente, domenica scorsa abbiamo trovato uno sponsor per Veronica. Per ora non le ho ancora detto nulla. Glielo dirò in un orecchio, come fanno tra loro i bambini di tutto il mondo, che non lo sappia nessuno. Perché siamo bambini e perché, come bambini, non dobbiamo smettere di volerci bene. Non dobbiamo smettere di sognare. Anna-Lisa Che ne sa Kelvin della Danimarca? Kelvin è piccolo, basso di statura e anche un po' frignone. La prima volta che sono stato a casa sua, una baracca all'interno della piantagione di banane in cui viveva con la madre, non sono riuscito a fargli fare mezzo sorriso. Non aveva mai visto un bianco in vita sua. Capita a chi è sempre vissuto in campagna, lontano da tutto e da tutti, lontano dalla scuola e senza la possibilità di giocare con altri bambini. Kelvin ora, appena mi vede, mi salta in braccio. Sio Baba Yangu, non sono il tuo papà, gli dico ogni volta, ma quel nannerottolo non vuol saperne. Quando gli altri bambini sostenuti si avvicinano a me, lui li caccia via perché nella sua testolina io sono solo suo. Rafiki Yanguni Daniele, il tuo amico si chiama Daniele, ho cercato di spiegargli. Lo abbiamo videochiamato col cellulare. Così si sono visti e Kelvin un po' alla volta ha cominciato a capire. Ha capito che nel mio telefono c'è un ragazzo che vive in Danimarca, che è emigrato lì per cercare un lavoro, che con quel lavoro paga per il suo cibo, la sua cartella, la sua scuola. Non ho insegnato a Kelvin a dire ciao. Al contrario, è stato Daniele a chiedermi di insegnargli a salutare in sua ili. Daniele gli ha detto che appena potrà verrà qui. Ora Kelvin, ogni volta che ci vediamo, mi chiede Il mio Mzungu quando viene? Viene l'anno prossimo, gli rispondo. Kelvin allora sorride e se ne va felice. Gina, leggo un racconto due anni in meno. Nasci Roy a sette anni e mezzo e vive a Mugere e prima di marzo non aveva mai visto una lavagna, un quaderno, una matita. Poi ha cominciato a frequentare la scuola pre-primaria di Saccaia. Ora sa contare, conosce le lettere dell'alfabeto e ha imparato a scrivere. Esiste una scuola pubblica a Mugere, ma dista sette chilometri da Boma, in cui vive Nasci Roy. La percentuale degli studenti della scuola pubblica di Mugere che passa gli esami finali statali è molto bassa. Forse solo il 5% può iscriversi alla scuola secondaria. Gli altri ripetono l'anno finché non sono troppo grandi per sedersi ai banchi. Iscrivere Nasci Roy ad una scuola primaria è un problema perché è troppo grande. Non iscrivere la scuola equivale a condannarla ad un matrimonio prematuro. Per fortuna le falle dell'anagrafe africana ci vengono di aiuto. Il 90% dei bambini che non frequentano la scuola non hanno nemmeno un certificato di nascita. Abbiamo deciso che Nasci Roy a 5 anni e mezzo sarà iscritta quest'anno all'ultima classe dell'asilo e l'anno prossimo farà due anni in uno. Grazie ad una grande amica di questa comunità che sosterà i costi per la sua borsa di studio siamo riusciti a dare a Nasci Roy la possibilità di essere una bambina, una ragazzina, una donna libera, una catena in meno. Joyce Gattai vive con la famiglia del padre adottivo Joyce è nata da una precedente relazione della madre l'anno scorso a scuola non aveva ottenuto buoni risultati io controllo spesso i registri per capire al di là dei problemi specifici chi merita la borsa di studio ho una tabella con uno schema complesso in cui tengo in considerazione diversi aspetti ogni bambino, secondo i miei calcoli ha un punteggio complessivo che in virtù della situazione familiare della distanza dalla scuola dell'età e delle possibilità economiche dei genitori mi aiuta a capire chi viene prima degli altri è uno strumento sciocco ma per me scegliere è una responsabilità enorme e in qualche modo cerco di farmi aiutare dai numeri non possiamo aiutare tutti e allo stesso tempo non tutti vogliono essere aiutati Joyce quest'anno ha fatto grandi passi avanti e assieme a Veronica è la prima della classe rispetto all'anno scorso ha un po' alla volta trovato il coraggio di essere se stessa al di là della non facile situazione familiare in cui vive Joyce ha cinque anni e mezzo Joyce non diventerà un'altra sposa bambina l'anno prossimo continuerà ad andare a scuola sono Maria e leggo il racconto Fatuma Fatuma è una ragazzina di 16 anni non ha finito la scuola non le è mai piaciuta da un mese lavora nel ristorante di consolata mia moglie e sua madre non è un vero e proprio ristorante ma una piccola baracca arangiata a Comwex un quartiere periferico rispetto a Mtovambu noto per lo spaccio e il consumo di marijuana per questo la zona è anche conosciuta come Jamaica Fatuma viveva sabato ma si è trasferita a casa della madre di consolata per poter essere più vicina al ristorante dopo qualche settimana ha trovato un fidanzato e si è trasferita a casa sua scherzando con consolata le ho detto che tempo un mese sarebbe rimasta incinta domenica mattina consolata e Fatuma sono andate a comprare il test per la gravidanza Fatuma è incinta domenica pomeriggio consolata ha accompagnato Fatuma dal fidanzato assieme gli hanno dato la bella notizia il ragazzo ha semplicemente detto che non se la sente di diventare padre ed ha chiesto a Fatuma di restituirgli le chiavi di casa grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.